rosanna fratello è un'icona la sua presenza nel mondo della musica italiana è stata una costante fonte di ispirazione per molti la sua musica ha affascinato generazioni attraversando decenni e rimanendo sempre attuale ogni sua canzone racconta una storia toccando il cuore di chi l'ascolta è un personaggio amato nella cultura italiana un simbolo di autenticità e passione la sua influenza si estende ben oltre la musica diventando un'icona culturale recentemente ha vissuto una rinascita di popolarità dimostrando che il suo talento è senza tempo i suoi concerti sono sempre pieni di energia e emozione questo rinnovato interesse dice molto sul suo fascino intramontabile la sua capacità di connettersi con il pubblico è unica e ineguagliabile i fan si identificano con la sua autenticità e il suo talento ogni incontro con lei è un momento speciale un ricordo da custodire la storia di rosanna è una storia di passione resilienza e il potere duraturo della musica ha superato molte sfide rimanendo sempre fedele a se stessa la carriera di rosanna dura da decenni ha calcato innumerevoli palchi portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto le sue esibizioni sono piene di emozione ed energia ogni nota ogni parola è carica di significato e sentimento fuori dal palco è conosciuta per la sua cordialità e generosità partecipa attivamente a eventi di beneficenza dimostrando il suo impegno verso la comunità tiene molto alla sua privacy ma rimane in contatto con i suoi fan utilizza i social media per condividere momenti della sua vita e per ringraziare i suoi sostenitori il percorso di rosanna è un'ispirazione ogni premio ogni riconoscimento è il frutto del suo duro lavoro e della sua dedizione ci ricorda che la vera arte trascende il tempo la sua musica continuerà a vivere ispirando future generazioni rosanna fratello ha scelto il lago di como come suo santuario un rifugio lontano dal trambusto della vita quotidiana questa splendida regione d'italia offre pace e tranquillità un luogo dove l'anima può trovare riposo e rigenerarsi incastonato tra le alpi il lago di como è rinomato per la sua bellezza l'aria è fresca e pura e il panorama è mozzafiato con viste che sembrano uscite da un dipinto è il luogo perfetto per sfuggire alle pressioni della fama e trovare un po di serenità dopo una carriera di successo rosanna ha cercato conforto a como un posto dove poteva ritrovare se stessa ha trovato casa in un'affascinante cittadina vicino al lago un luogo che le offre un senso di appartenenza e comunità qui ha potuto godere dei piaceri semplici della vita come passeggiate tranquille e momenti di riflessione l'amore di rosanna per como è evidente in ogni suo sorriso e in ogni suo gesto spesso condivide la sua bellezza con i suoi fan sui social media mostrando scorci di questo paradiso le sue foto catturano l'essenza di questo luogo magico trasmettendo la pace e la bellezza che ha trovato qui il lago di como cattura i cuori da secoli la sua storia è ricca e affascinante gli antichi romani erano attratti dalle sue sponde costruirono ville lussuose con vista sul lago oggi queste ville sono testimonianze del fascino duraturo di como offrono uno sguardo su un passato glamour leggende e folklore circondano il lago di como alcuni dicono che una creatura mitica si nasconda nelle sue profondità questa creatura conosciuta come il lariosauro si dice assomigli a un gigantesco serpente sebbene non ci siano prove scientifiche della sua esistenza la leggenda persiste aggiunge un elemento di mistero al fascino di como rosanna fratello è una persona riservata tiene alla sua famiglia più di ogni altra cosa è sposata con pino cappellano la loro storia d'amore dura da decenni condividono un legame profondo e un sostegno reciproco incrollabile la famiglia di rosanna è il suo punto fermo i momenti salienti della carriera di rosanna sono numerosi ha pubblicato innumerevoli canzoni di successo la sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone è un artista acclamata in italia e non solo le esibizioni di rosanna sono leggendarie domina il palco con carisma e passione sezione 5 bilanciare fama e famiglia l'approccio con i piedi per terra di rosanna nonostante la sua fama rosanna rimane con i piedi per terra dalla priorità alla sua famiglia capisce l'importanza dell'equilibrio rosanna sa che la vera felicità sta nel custodire i propri cari parla spesso dell'importanza dei valori familiari l'approccio di rosanna alla fama è rinfrescante non cerca le luci della ribalta predilige l'autenticità alla superficialità i fan di rosanna la ammirano per questo la vedono come un modello dimostra che è possibile raggiungere il successo senza compromettere i propri valori sezione 6 le delizie culinarie di como una festa per i sensi il lago di como è un paradiso culinario ingredienti freschi e locali sono il cuore della sua cucina la regione è nota per il suo pesce d'acqua dolce persico trota e luccio sono i preferiti della gente del posto vengono spesso serviti alla griglia o al forno con erbe aromatiche e limone rosanna è un appassionata della cucina di como le piacciono i piatti semplici e saporiti apprezza l'uso di ingredienti freschi e di stagione rosanna spesso cena nelle trattorie locali questi ristoranti accoglienti offrono un assaggio dell'autentica ospitalità italiana sezione 7 echi del passato tesori architettonici di como como è la patria di meraviglie architettoniche antiche chiese grandiose ville e affascinanti piazze punteggiano il paesaggio ogni struttura racconta una storia sussurrano racconti di epoche passate esplorare como e come fare un salto indietro nel tempo il duomo di como è una tappa obbligata questa magnifica cattedrale domina lo skyline della città la sua costruzione è durata secoli il risultato è un capolavoro dell'architettura gotica e rinascimentale all'interno i visitatori sono accolti da soffitti svettanti e intricate vetrate colorate il polso vibrante di como una città viva di cultura como è una città viva di cultura festival concerti e mostre d'arte riempiono il suo calendario il teatro sociale è un centro per le arti dello spettacolo questo teatro storico ospita opere balletti e spettacoli teatrali è una perla culturale nel cuore di como le strade di como sono fiancheggiate da boutique gallerie d'arte e caffè i visitatori possono passeggiare tra affascinanti vicoli scoprendo tesori nascosti l'atmosfera è vivace e invitante como è una città che abbraccia il suo patrimonio culturale celebrando al contempo il presente oltre il palcoscenico l'eredità duratura di rosanna l'eredità di rosanna fratello si estende oltre il palcoscenico è un'ispirazione per gli aspiranti artisti incarna il potere della passione e della perseveranza il percorso di rosanna è una testimonianza del fascino duraturo della musica italiana la musica di rosanna continua a entrare in risonanza con le nuove generazioni le sue canzoni evocano emozioni che trascendono il tempo parlano di amore perdita e bellezza della vita la voce di rosanna è un dono ha il potere di trasportare gli ascoltatori in un altro luogo e in un altro tempo lo spirito filantropico di rosanna oltre ai suoi successi artistici rosanna fratello è profondamente impegnata a restituire alla sua comunità presta la sua voce e il suo sostegno a varie cause benefiche che le stanno a cuore la sua generosità d'animo traspare nei suoi sforzi filantropici la compassione e la dedizione di rosanna nel fare la differenza sono fonte di ispirazione per molti usa la sua piattaforma per sensibilizzare l'opinione pubblica su importanti questioni sociali le sue azioni dimostrano che il vero successo consiste nell'usare la propria influenza per avere un impatto positivo sulla vita degli altri conclusione trovare la serenità sotto i riflettori in un mondo frenetico e pieno di impegni trovare momenti di pace è essenziale rosanna fratello ha trovato la serenità sotto i riflettori nonostante la pressione e le aspettative ha imparato a mantenere la calma e la grazia la sua casa a como le offre un rifugio tranquillo è un luogo dove può sfuggire al caos e trovare un po di pace è un luogo dove può ricaricare le batterie e riconnettersi con la natura qui tra il verde e l'acqua trova la sua energia la storia di rosanna ci ricorda che la felicità sta nel trovare l'equilibrio non è solo il successo professionale ma anche la pace interiore il percorso di rosanna è un'ispirazione ci mostra che è possibile vivere una vita piena e soddisfacente ci insegna a seguire le nostre passioni a non rinunciare mai ai nostri sogni ad amare i nostri cari a dedicare tempo a chi amiamo e ad apprezzare i piaceri semplici della vita un caffè al mattino un tramonto sereno dimostra che la vera realizzazione personale viene da dentro è una questione di equilibrio e serenità il lago di como con la sua bellezza mozzafiato fa da sfondo perfetto alla vita di rosanna un luogo che ispira e calma una vita